ciao amici chi tra voi ha avuto a che fare almeno una volta con la fastidiosissima candida prima di proseguire con il video fatemelo sapere nei commenti che stress questa candida quando viene poi non va mai via non va via perché non si fanno le giuste azioni molto spesso i consigli sulla candida prendono in considerazione solo un aspetto lasciando alla candida lo spazio di resistere invece nel mio sistema di salute naturale spiego come affrontare la candida con una strategia sinergica se volete saperne di più potete contattarmi per un coaching personalizzato dal link qui sotto oggi voglio condividere con voi cinque rimedi naturali che in oltre 25 anni di esperienza ho visto funzionare bene contro la candida se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace questo video tanti mi piace tanti nuovi video amici se vi interessa questo argomento ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra ma scusa perché viene la candida ottima domanda il responsabile di questo disturbo è il fungo candida albicans si tratta di un fungo che vive naturalmente nel nostro intestino e fa parte della flora batterica se la flora batterica viene compromessa la candida prende il sopravvento e si diffonde in altre zone del corpo con sintomi fastidiosi la forma più comune nelle donne è quella vaginale ma può colpire anche gli uomini oppure presentarsi in altre parti del corpo come bocca e intestino per liberarsi dai sintomi della fastidiosa candida esistono rimedi naturali efficaci 1 aglio è l'alimento antifungino per eccellenza può uccidere il fungo che causa l'infezione si può usare semplicemente per insaporire i propri piatti 2 bicarbonato è fortemente alcalino capace di alzare il ph naturale della vagina creando un ambiente ostile alla proliferazione del fungo bisogna sciogliere mezzo cucchiaino di bicarbonato in mezza tazza d'acqua ed effettuare dei lavaggi di breve durata con questa soluzione 3 calendula con le sue proprietà lenitive è perfetta per calmare il prurito e il bruciore può essere assunta come tintura madre o sotto forma di infuso 4 acido borico a proprietà antisettiche è efficace nella cura delle infezioni da funghi e da lieviti si trova in pastiglie o supposte l'uso è però sconsigliato in gravidanza 5 tea tree oil a proprietà antimicotiche è efficace per far regredire il fungo della candida l'ideale è mescolarlo con dell'acqua calda con cui puoi fare dei lavaggi o tamponi per debellare la candida spesso è necessario un percorso personalizzato come ho accennato all'inizio del video se desideri essere seguito con il mio sistema di salute naturale contattami dal link in descrizione per vedere tanti altri video di consigli per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate se amate leggere in descrizione trovate il link ai miei libri e the book come ad esempio quello dedicato alle difese immunitarie e la prevenzione la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di simona vignali